Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Siamo qua con il nostro amico Pixel, hashtag il peso, ciao Pixel Ciao Su Overwatch E niente, un po' di scaccio ragazzi, ultimamente non ho fatto video E niente, mi sono data il nerdaggio puro su World of Warcraft Altro che droga ragazzi Comunque, no, nemmeno tanto In realtà mi sono anche comprato un gioco molto carino che si chiama Planet Coaster E quindi molto prossimamente lo vedrete Niente, allora vogliamo iniziare? Ok, dai Quindi ragazzi, allora diciamo che È una modalità 3 vs 3, ma noi abbiamo un piccolo trucchetto Infatti, allora aspetta, fammi fare le cose per bene Diciamo che in teoria vi dovrei far vedere lei, cioè Sombra Guardatela com'è carina che è il nuovo eroe che c'è su Overwatch Però visto che non la sa usare E quindi non voglio fare figure di cacca Quest'oggi ragazzi Vi guideremo sulla lunga e prestigiosa strada Per diventare dei camper professionisti ragazzi Esatto Madonna Zeri, è proprio inguardabile comunque Sì Cioè se almeno non gli avessero fatti i capelli rosa, pucciosi Cioè uno dice, vabbè Sì Il PG femmina armadio No, ma poi per le skin su sono proprio brutte No, è proprio brutta lei, sì L'unica bella forse è solo il momento pesi O campionessa Non lo so Perché cambiano proprio i capelli Ci credi che non le ho proprio mai guardate le skin di Zeri? Ma proprio mai Gallerie eroe Guardiamole, ragazzi Le skin di Zaria Allora, le skin di Zaria Cioè Zaria è inchiavabile Zaria è inchiavabile Zaria è esattamente come quella di Ah no, scusate, sto guardando gli audio Allora abbiamo Zaria Versione scappata di casa Versione sono in giallo così quando cammino non mi mettono sotto Versione sono ancora più amo ma mi sono fatta le unghie rosa Così sembro Una ragazza Quella unghie rosa Versione russa ovviamente Vabbè dai Ti prego tutti, non Manuel, quello di prima Ti prego tutti Ok, dai, dai Ce la possiamo fare Ragazzi No, grande Questo ci piace Grande Ender 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 Me la sento Questa volta Adesso posso mettere nel titolo Rowan Grugnisce Rowan Porcellina Mi Sai quante Quante view Faccio Sai quante view Faccio Rowan Porcellina Si Lui va l'avventura Vabbè va Secondo me tra l'altro Secondo te da dove vengono Da davanti o da dietro Ma no Si stanno stuprando quello Si stanno Aspetta Allora ragazzi Ricordiamoci che l'importante Non è vincere o perdere Ma è quanto ci insultano Perché non usciamo dal pertugio Dai Entrate Ecco E' morto Eccolo Ora vengo da Già si è fatto E qui Però stavolta Forse riusciamo a farci Sultare dal compagno Di squadra Tra l'altro ragazzi Per favore Fatemi sapere Come mi sentite Perché mi sono comprata Il braccio Arriva Arriva Vai No dai Grande No ma Pixel Non l'hai ucciso Perché no Come non è morto Cristo Dio Perché no Pixel Dovevi ucciderlo Per tempo Oddio Oddio Dai C'è la Mei Avversaria Ce la puoi fare Siete una Mei Contro una Mei La vedo Pericolosa Vabbè Ma siete solo tu contro lei Dai Ce la potete fare Ha solo skill adesso Pixel Dai Eh non ce le ho Ce la puoi fare Sì che ce l'hai Dai che ce l'hai Concelati Concelati Grande Pixel Sì Grande Ti adoro Comunque la parolina Colattina Non si dice Giusto Bravo Soprattutto nei confronti Di una signorina È offensivo Ma io È una ragazza Intelligente E molto preparata Visto che è una scienziata Giusto Ora vediamo se Rodog riesce di nuovo a farsi chillare Ora piazzo subito il muro Non esce Sì sì Vai di muro Comunque Io mi rimetto qui Perché so già che Così tu lo Se rientra a cosa lo congeli Quello è per vedere il futuro È uscito dall'altra parte Sì sì Oh No Cominciano a leftare la partita Grande ragazzi Ok Cinque punti per left della partita Ragazzi Cinque punti per il left della partita Bene Quindi gente fresca Fresh meat Infatti Che non sanno Che si stanno per beccare una camperata spaziale Ecco Giustamente il compagnuccio di squadra si è fatto segare Ma a me piace il fatto che sono da soli Contro tre persone E comunque ci vanno Voi Voi Reinhardt Vieni amore Tesaro La 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 Sì Prossimo acquisto Chi entra dalla porta Oh è rimasto uno Pizzola Vai muro Metti il muro Ah Vai grandissima Bella ragazzi Questa ci è piaciuta Vai Attenzione Partono i wine Ah Guarda Ah you are stupid campers Grandissimo Ma questo è del nostro team Sì You are stupid campers Ragazzi No ma Cioè io capisco se Non ci fosse possibilità di vincere Ma va sicuro che è una tattica Che la perdi al 100% Se il nemico sa quello che deve fare E io sto qua Posso? Cioè con tanto di muro Quella non ha capito Va bene Ecco un altro che cambia Vai ragazzi Stiamo facendo macelli Veramente Macelli ragazzi Offese Left Offese Left Attendiamo adesso Secondo me entrano Pixel mi raccomando Devi Pronto a urlare come una femminuccia Se entrano da dietro Ok Allora cosa c'è? Un'ozegnatta C'è un'ozegnatta e? Quell'altro non l'ha scelto Ancora Ma secondo te? E' morto penso Sono morti Sono tutti Stanno camperando anche loro Dall'altra parte Aspetta Aspetta dei rumori Zitto No non c'è nessuno Boh aspettiamo Occhio Sento un gancio Ecco Oddio Sento un road dog Ok il road dog Bisogna essere Super veloci A killarlo ragazzi No mio dio Non lo stanno Io non sento niente Non lo so Mi aspetto da un momento All'altro A vederlo Spondare la porta Vabbè Un porcellino Fa molto rumore Quando cammina Eccolo Eccolo davanti 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 Sì Sta arrivando Sta arrivando Ragazzi Sì sì Cacchio no pixel Non è entrato Ora ha visto dove sono Dai ci facciamo No non ci credo Cioè Ha visto che io ero da sta parte Ciao segnata Yeah Grandi ragazzi Cioè ha visto che io ero da sta parte E è venuto da te invece che venire da me Sì Ma perché Grandi ragazzi Heroin and pixel win Yeah Yeah ragazzi Hai anche fatto l'azione migliore La camperata migliore Please Camperata migliore della partita E mi è salvato sì No ragazzi Io non ci credo Ragazzi Guarda che c'hanno scritto Ok Grazie sempre Noi sempre sportivi Ragazzi Oh un forziere Oh mio dio Un forzierino No no Io lo apro adesso Che apri dopo Attenzione ragazzi Apriamo il forziere Oh mio dio Che brutto No il modello Anzu Bello Bello ragazzi Guardate che buono Tanto buono Anzu Tanto buono Anzu col capezzolo Nei fori Non lo so Perché in realtà Non ho mai giocato Anzu Quindi Bene ragazzi Questo era Overwatch Camping edition Modalità piccioni Camperoni Spero che il video Avesse piaciuto Se così fosse Lasciate un like Mi raccomando Se invece il video Non vi è piaciuto Perché siete Stati vittime Dei nostri Innumerevoli Camping Lasciate Mi raccomando Un bel dislike No scusa Un bel dislike Almeno ci abbiamo La soddisfazione Quindi niente Ciao ragazzi Al prossimo video Ciao ciao